Massimiliano Grasso, ieri è terminata la verifica nelle dieci sezioni, che cosa è emerso? Sì, è emerso quello che diciamo in larga parte ci attendevamo soprattutto dal verbale dell'ufficio elettorale centrale, ossia uno scrutino che ha riguardato in forma completa cinque sezioni, poi in altre cinque si ricercavano le famose schede con la scritta Cossolino e senza il croce segno. Diciamo che complessivamente noi abbiamo rispetto alle attribuzioni dei vari seggi contestato oltre 30 voti, non sufficienti per arrivare ai 45 che nel risultato ufficiale mi separavano da Cossolino. A questo punto la strada da compiere è un bivio, potremmo decidere di andare avanti, di presentare motivi aggiunti, perché in ogni caso praticamente in tutte le varie sezioni aperte di queste dieci sezioni c'erano dei voti con la scritta Cossolino e con il croce segno però sul Movimento 5 Stelle che noi ritenevamo in base a una sentenza del Consiglio di Stato che dovessero essere annullati, il TAR non era già stato di questo avviso. Questo però significherebbe dover presentare motivi aggiunti, ricorrere poi al Consiglio di Stato e praticamente rimanere ancora in questo limbo, su questo ricorso per altri mesi. Diversamente riteniamo che, visto che il ricorso era stato presentato appunto per fare giustizia e chiarezza sull'esito del voto, da dieci sezioni è emerso che c'erano almeno una trentina di voti da contestare, è emerso che c'è stata grande confusione in tutti i seggi e nell'esito del voto, però credo che sia giusto anche prendere atto di questo fatto e quindi la nostra decisione sarà quella di non andare avanti ulteriormente e quindi di fare gli auguri al Sindaco Cossolino augurandoci che la sua amministrazione cominci ad amministrare perché per quanto ci riguarda dopo questi nove mesi di limbo con questo ricorso inizieremo comunque a scrivere una pagina nuova anche del nostro modo di fare opposizione, non che finora non l'abbiamo fatta ma sicuramente adesso non ci saranno più alibi o comunque condizioni sospensive, chiamiamole così, quindi riprenderemo ad occuparci dei problemi della città come abbiamo fatto finora dal nostro ruolo di opposizione facendo comunque gli auguri al Sindaco ribadendo appunto che non era un ricorso contro qualcuno ma era per fare chiarezza.